Simone, vai, vai Simone, vai, senta paura Bene, si può ricominciare La testa a testa tra Daniele Alimenti e i suoi generati che sfonda il cordolo di sabbia e vince! Vediamo che le macchine continuano all'aspetto diverso da quello che arrivano all'inizio Farauti che volano, variatori che soffiano acqua Retromarcia inserita e dentro! L'obiettivo è quello di fermare le macchine e gli avversari Signori, un'altra macchina ferma Fermi Una spinta grazie alla numero 69 Prego Roberto, agevolo l'accensione Bene, ci siamo! Magara! Signori del pubblico, ricordatevi che non vi sentono, ma se li applaudite vi vedono! E quando si esaltano questi ragazzi non vi ferma più nessuno! Non si stanno sicuramente risparmiando questi ragazzi! Signori del pubblico! E' un'ospettabile unico! E' un'ospettabile unico! Grazie.